Il 6 di novembre il dottor Barbagallo arriva in Veneto Banca perché ci deve consegnare la memoria ispettiva. Ci chiede di allontanarci un attimo dal consenso in cui eravamo e porta il presidente Trinca e porta Consoli nello studio di Trinca e qui dice che la banca non è più in grado di camminare con le proprie gambe e deve andare con una banca di adeguato standing. Trinca diventa paonazzo e dice ma quale sarebbe la banca di adeguato standing quasi urlando e il dottor Barbagallo dice, non so se sottovoce, dice Banca Popolare di Vicenza. Vicenza doveva avere a tutti i costi Montebelluna con la regia di Banca d'Italia. Questa è una delle verità di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, oggi pomeriggio davanti alla commissione parlamentare. Una delle tante operazioni dello schiacchiere bancario italiano dove Banca d'Italia avrebbe cercato di salvare alcuni a discapito di altri. E qui Consoli lancia una nuova accusa a Banca d'Italia dopo aver spiegato alla commissione che il valore reale delle baciate in Veneto Banca era il 5% dell'intero pacchetto clienti. Roma non crede che ci siano così poche baciate in Veneto Banca e quindi chiede agli ispettori di continuare a cercare. Continuano a cercare e continuano a cercare. Tanto che non se ne trovano si stringono un pochettino le maglie. Obiettivo secondo Consoli era, come è avvenuto, soffocare la banca con i fondi obbligatori di accantonamento su crediti inesigibili, arrivando a calcolare anche gli oltre 380.000 affidamenti privati per mutui prima casa. Una situazione comune per tutta Italia.